Un saluto e bentornati amici che ci seguite. Clima tutto tranne che autunnale in questi ultimi giorni durante il fine settimana e persino nella prossima settimana in compagnia del vasto anticiclone il quale ci assicura tempo stabile, tanto sole e temperatura sopra la media del periodo anche di 5-6 gradi nelle ore centrali della giornata. Sulla grafica accanto si nota molto bene l'anticiclone con i suoi massimi di pressione tra l'Italia, l'Austria e la Germania. Attendiamoci quindi bel tempo su tutte le regioni e clima mite con picchi di temperatura fine oltre i 26-27 gradi su alcune città italiane. Da segnalare soltanto la formazione di locali foschi o nebbie di notte al mattino sulla pianura padana e sulle vallate interne del centro. Al momento è tutto, un saluto e al prossimo aggiornamento sul tempo anche nella prossima settimana.